Allora, io sono Fabio e sono sardo e siamo in una specie di agriturismo come la nuova in Sardegna. Il randafir della Moldova, ti asi iubi? Si, ti asi iubi? Si, ti asi iubi. Ma mai, ma mai, ce am iubit asupra? Allora, io sono Fabio e sono iubili. Il randafir della Moldova, ti asi iubi? Se in Sardegna si chiama ucchi sogno e lo facciamo bollito con le patate. Io non posso mangiare piccante, per cui... Ciao ragazzi, vado via! Ciao! Vai, vai, vai! Ma come vai? Niente! Ciao! 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 Ciao!